è uscito in tutte le librerie tu sei la tua voce scritto da daniela satragno la miglior voice coach del mondo e da roberto re per tutto ciò che riguarda la parte mentale e emozionale quindi se vuoi imparare a usare meglio la tua voce sia per cantare o per parlare va in libreria compra tu sei la tua voce un sacco di indicazioni pratiche un sacco di esercizi il metodo di daniela per farti sfruttare al meglio la tua voce